Questo video vuole comunicare con te. Per quale motivo? Per quale motivo vuole comunicare con te? Salutiamo Rosy, salutiamo Gina Decazzan e tutte le persone che si collegano e che si collegheranno. Bene, bene, vediamo. Vuole comunicare con te. Perché? Perché vuole comunicare con te? Bene, cerchiamo di capirlo, diciamo, con questo interattivo. Quindi tu puoi pensare a una persona, puoi pensare a una persona, una persona che magari verso la quale nutre un interesse e cerchiamo di capire come mai, cerchiamo di capire come mai questa persona vuole comunicare con te. Perché? Cerchiamo di capire come mai, come mai questa persona vuole comunicare con te. Allora, concentrati su una persona e cerchiamo di capire come mai questa persona vuole comunicare con te. Ovviamente ricordo che i tarocchi sono tarocchi interattivi, per cui sono validi nel momento in cui vengono visti, mai nel momento in cui vengono fatti. Questa è una cosa molto importante, il che significa che in qualunque momento i tarocchi possono essere, diciamo, visti. Quindi tu lo stai vedendo adesso, ma in un altro momento va bene uguale. Proprio perché l'interattività è dovuta al principio sul quale si basano i tarocchi, che ricordo, sempre è il principio della sincronicità. Per cui in qualunque momento ti capiterà di vedere il video, ovviamente è quel momento, è quello giusto. Quindi nel frattempo, nel frattempo, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E quindi, visto che siamo qua, pensa! Pensa a una persona, pensa a una persona, pensa a una persona con la quale vuoi parlare e vediamo se questa persona, diciamo, è quella giusta, è quella giusta e che cosa ti vuole dire, vuole comunicare con te, perché vuole comunicare, sarà una comunicazione positiva, sarà una comunicazione negativa, andremo a capirlo in questo video, andremo a capirlo in questo video, perché i tarocchi possono svelare questi misteri, possono dirti delle cose. Quindi tu concentrati perché concentrarti su una persona porta, diciamo, a sincronizzare le frequenze e quindi, ovviamente, sincronizzando le frequenze, si possono, diciamo, sviluppare, si può sviluppare proprio questo fenomeno di sincronicità, questo fenomeno di entanglement. Bene, allora, adesso è il tempo di scegliere testimoni. Scegliamo, oh, il primo testimone è il Buddha. Il secondo testimone è la piramide, la piramide è il secondo testimone e abbiamo poi il terzo testimone che è la stele, Buddha, quindi Buddha, piramide o stele. E vediamo un po' come mai questa persona, perché questa persona si vuole coinvolgere con te. E partiamo, partiamo dal Buddha, il primo testimone. Questa persona vuole comunicare con te. Perché? Che cosa ti vuole dire? Sarà una dichiarazione d'amore? Sarà che ti vuole mollare? Chissà come mai tu pensa a una persona. E siamo alla prima stesa, che è la stesa del Buddha. Vediamo un po' come mai questa persona vuole comunicare con te. Resta concentrata o concentrato sulla persona in oggetto. Vediamo un po' che cosa ci racconta. Vediamo un po' che cosa ci racconta. Intanto saluto anche Sissi. Saluto Betty Kotic. Saluto Roxy Rosa. Roxy Rosa. Saluto il Gambino. Saluto il Gambino. Crezzi Roby. Crezzi Roby. Tutte le persone che in qualche modo si collegano e si collegheranno. Allora, vediamo un po'. Tagliamo. Non ho più visto Pippoli. Non so se è ancora legato, se sei slegato. Non sappiamo. Allora, vuole chiudere. Qua mi sa che per chi ha scelto il Buddha c'è una persona che comunque vuole chiudere. non ha sicuramente un buon giudizio positivo nei tuoi confronti e quindi in realtà vuole comunicare qualcosa che non va. Diciamo che non è detto che voglia chiudere, però diciamo ha maturato nel tempo un giudizio non propriamente positivo nei tuoi confronti. Ha maturato nel tempo un, come possiamo dire, un giudizio non proprio positivo nei tuoi confronti. Pippi è nel mondo dei sogni, come i vampiri. Bene, questa è la prima, cioè bene insomma, potrebbe andare meglio, però questa è la prima stesa. Vediamo un po' cosa ci dice la seconda stesa. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi, vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi invece esoterici, egizi, i tarocchi esoterici, egizi. Betty Cotic, andatevi a fare il ritratto a Campo Manina, Venezia. Allora, che dice? Allora, critica, critica. Questa persona ti sta criticando in qualche modo, quindi è un po' incazzata, è un po' incazzata. Diciamo che è una persona che guarda molto il vantaggio, guarda molti guadagni, ed è un uomo vestito. Un uomo vestito potrebbe essere un giudice, un consigliere, ma anche il tranviere, diciamo. Un uomo con la divisa, una persona con la divisa. Potrebbe essere un uomo, una donna con la divisa. Potrebbe essere il postino anche, il tranviere. Potrebbe essere, oppure il catramista, con la divisa da catramista, non lo sappiamo. Però potrebbe essere il medico, l'infermiere, il giudice, il poliziotto, insomma qualcuno con la divisa. Vediamo un po', però è molto critico nei tuoi confronti. Il becchino, certo, potrebbe essere chiunque. Qualcuno con la divisa, l'uomo in divisa. Il macellaio, il macellaio, il salumiere, non lo so, il farmacista. Vediamo un po' che cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Cosa ci raccontano le sibille di Lenormand. Vediamo un po' cosa ci raccontano le sibille di Lenormand. Qual è la cosa, che cosa sta per comunicarti. Vediamo un po'. È un po' incazzata, questa persona è un po' incazzata nei tuoi confronti, come se gli avessi fatto girare i coglioni. Allora, qua non vengono delle bruttissime carte. Allora, è una persona che comunque ha una sua stabilità. Devi averlo fatto incazzare in qualche modo. Secondo me dovresti fare un po' di mia colpa, perché la persona in effetti non è una persona negativa. Anzi, diciamo che è una persona che ha un suo equilibrio, tiene molta la famiglia, l'amicizia. E' una persona, diciamo, che ha comunque... Se è una donna, è una donna dinamica, coraggiosa, altruista. E' una donna o un uomo di valore, insomma. Quindi è molto incazzato, però molto arrabbiato. Vediamo qualche suggerimento. Se c'è possibilità di recuperare la situazione, vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zenzen di Osho. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi Zenzen. Allora, scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte. Allora, beh, e ti dicono, allora, viviti, divertiti, goditi le cose, il divertimento. Poi abbiamo il, diciamo, la partecipazione. E anche questa relazione può avere una svolta positiva. All'inizio è una politica male, ma può avere una svolta positiva se la vivi con leggerezza. Se la vivi con... Lui vorrà... Non credo a questo punto che voglio chiudere la relazione, ma vorrà esprimere una critica, un giudizio critico nei tuoi confronti. Perché se sentita offesa, se sentita, insomma, o sentita trascurata, magari messa da parte, per cui un po' vuole fare qualcosa, diciamo, e quindi ti manifesterà questa situazione. E questa è la prima, la prima stesa. Ma passiamo alla seconda stesa... Ai ai ai, qui sto facendo danni. Passiamo alla seconda stesa... Passiamo alla seconda stesa... Passiamo alla seconda stesa... Che è la stesa della piramide. La stesa della piramide. Passiamo alla seconda stesa che è la stesa della piramide E salutiamo anche Niki, Niki che non so come si chiama Niki, non mi ricordo mai il nome Se è Nicoletto o Nicoletta Salutiamo anche la nostra Ghenetina Ghenepo Seconda stesa della piramide La seconda stesa della piramide Allora questa persona ti vuole parlare Che cosa ha da dire, che cosa ha da dire Partiamo con gli arcani Partiamo con gli arcani maggiore dei tarocchi Perché ti vuole parlare? Salutiamo la Ghenetina Salutiamo la nostra Niki Che non so come si chiama Vi ricordo di mettere un like Iscrivervi al canale Attivare la campanella Così riceverete la notifica dei nuovi video Se volete fare una donazione al canale Potete cliccare sul tastino Potete cliccare sul tastino col dollarino Mescoliamo le carte E vediamo un po' che cosa ci raccontano queste carte Cosa ci raccontano queste carte Allora, scegliamo le prime tre carte Andiamo un po' a vedere Beh, qua andiamo decisamente meglio Andiamo decisamente meglio Perché abbiamo l'imperatore, il sole e il papa Quindi è una persona che ha un giusto equilibrio Perché il papa e l'imperatore Rappresentano, come dire L'immanente e il trascendente L'immanente e il trascendente Quindi è una persona che ha un suo equilibrio interiore È una persona che comunque Diciamo Vede il sole Cioè nei tuoi confronti È una persona che ha veramente Un desiderio profondo Nei tuoi confronti E quindi ti dirà delle cose positive La comunicazione sarà una comunicazione positiva Potrebbe essere una dichiarazione d'amore Potrebbe essere una dichiarazione di amicizia Potrebbe essere una dichiarazione Comunque ti dirà delle cose positive Nei tuoi confronti Ti dirà che si sente comunque molto coinvolto Coinvolta con te Che sente diciamo un legame anche forte Nei tuoi confronti Quindi questo è quanto Quindi direi che tutto è molto Da questo punto di vista positivo È una persona che ha una connessione profonda con te Vediamo Vediamo Cosa ci dicono i tarocchi I tarocchi esoterici egizi Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi Andate in Campomanin a Venezia A farvi fare un ritratto Dalla nostra Betty Cottage Che è una bravissima pittrice Allora Tagliamo Vediamo un po' Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi Allora Beh è una persona modesta È una persona diciamo Un sorvegliante Un osservatore Un curioso Una persona Potrebbe essere uno scienziato Che ha una sua ricchezza Stabilità economica Quindi diciamo che Oltre ad avere Ha anche delle qualità È una persona di qualità Bene Cerchiamo di capire Cosa ci dicono i tarocchi I tarocchi Le sibille Le sibille di Lenormand Cosa ci dicono le sibille di Lenormand E piove E piove E piove sulle tameriggi salmastre d'arse Piove sui mirti divini Piove Sui pini scagliosi ed irti Piove sulla favola bella Che ieri mi illuse Che oggi ti illude O Ermione Allora Allora Vediamo Vediamo Quindi Cosa ci dicono le sibilline di Lenormand Cosa ci dicono le sibilline di Lenormand Cosa ci dicono le sibilline di Lenormand Piove nel mio magazzino Allora Vediamo Cosa ci dicono le sibilline di Lenormand Beh Una bella Una bella Diciamo Una bella Come possiamo dire Una bella stesa Abbiamo l'orso Abbiamo l'orso Abbiamo I pesci Fortuna Quindi una persona buona Una persona solida E sarà una relazione fortunata Veramente una relazione fortunata Perché ci sono tutti i presupposti ovviamente I pesci ad esempio Sono proprio la La fortuna I pesci rappresentano La ricchezza L'abbondanza Il guadagno Soddisfazioni Una persona importante Una persona attraente Una persona intelligente E comunque anche Anche il cane rappresenta anche una persona Una persona fedele Rappresenta Diciamo Una persona affettuosa Protettiva Ma abbiamo Abbiamo anche l'orso Taci sulle Qua Taci sulle soglie fulgenti, di fiori accolti, ginepri folti, di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, poi con i nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri, che l'anima schiude novella, piove, no, schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione, c'è il gallo? Non ci posso credere, c'è un gallo in casa? Ma com'è possibile avere un gallo in casa? Cioè, com'è cazzo possibile? Ma scusa, dove sporca il gallo? Ti sporca sui pavimenti, quelli sono peggio dei corsi. Allora, hai una morale un po' troppo rigida? Devi lasciare fiorire le cose come vanno e non reprimerti. Questo è un'ottima stesa anche per la piramide. Vediamo la stele, vediamo la stele, salutiamo. Vivi Spagna, vediamo la stele, cosa ci racconta la stele? Allora, vediamo un po', vediamo un po', piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illude, che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Allora, mescoliamo, mescoliamo e tagliamo, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Interessante, abbiamo la muerte, un cambiamento, però la giustizia è un cambiamento che tu percepirai in modo positivo e avrai anche la forza, quindi ti vuole dire che devi cambiare, ci sarà un cambiamento. È una persona che porterà un cambiamento nella tua vita, un cambiamento importante, repentino, ma che avrai la forza di gestire, quindi un cambiamento importante nella tua vita, ti vuole dire. È ora di cambiare, è ora di cambiare e questo è importante. Ma sì, ma come fa a stare a casa? Io non capisco come fa a stare a casa un gallo. Vabbè. Capisco un canarino, ma un gallo. Piove sui nostri volti silvani, sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella. Sulla favola bella, che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o ermione. Allora, mescoliamo le carte e vediamo. Le galline in casa? Non avevo mai sentito il gallo in casa. Allora, allora, quindi vai da mangiare le galline. Vai da mangiare le galline. Allora, giudizio positivo, quindi una persona che ha un buon giudizio positivo, poi abbiamo una vincita, una trasgressività e un'utilità, quindi vantaggio, guadagno. Abbiamo il cuore, il cavaliere denari, vantaggio, guadagno, profitto, interesse importante. Quindi una persona che porterà comunque una ventata di novità positiva nella tua vita. Vediamo, quindi, siamo arrivati alle sibilline di Lenormand. Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Vai da andare a mangiare le galline con i tacchi. Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Allora, vediamo, vediamo cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand. Abbiamo praticamente il gentiluomo, quindi il gentiluomo, abbiamo un'altra, il quadrifoglio e abbiamo anche la torre, quindi tutte situazioni positive, importanti, perché abbiamo il gentiluomo che rappresenta praticamente il consultante oppure una persona di valore, una persona di qualità e poi abbiamo il quadrifoglio, la fortuna, una relazione fortunata e poi abbiamo ancora la torre, la torre che rappresenta la stabilità e la solidità. E partiamo, vediamo un attimino cosa ci raccontano adesso i tarocchi Zenzen di Osho. Cosa ci raccontano i tarocchi Zenzen di Osho? E vediamo un po', scegliamo le prime tre carte anche per questo caso. Abbiamo l'innamorato, l'innamorato, il sogno d'amore e la celebrazione, quindi viviti il sogno d'amore, viviti la passione e celebra, sii felice. Bene, detto questo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video, seguitemi su tutti i miei canali YouTube.